Il mondo dell'agricoltura incontra i parlamentari abruzzesi candidati alle prossime elezioni, è un momento particolare? Cosa chiedete alla politica Presidente? Sì, è un momento particolare. Da circa un anno assistiamo ad un aumento indiscriminato dei costi di produzione, in particolare l'energia che sta mettendo a suo quadro tantissime aziende. Cerchiamo veramente di dare una risposta, anche se minima, chiedendo il prolungamento del credito d'imposta per quanto riguarda il gasolio e l'energia utilizzata dalle industrie di trasformazione agricola anche per il 2023. Emergenza siccità, altro problema che non è più un qualcosa di sporadico, ma bensì tutti gli anni ormai assistiamo a questo serio problema che mette a rischio tantissime aziende. Altra cosa importantissima è una programmazione agricola che tenga conto del lavoro agricolo, non solo come produzione di prodotti alimentari che poi sono fondamentali, in particolare in questi periodi in cui la geopolitica è in crisi, è una crisi vera, quella di dare un riconoscimento a questa attività anche come presidio del territorio, quindi la salvaguardia delle zone interne, una politica che non faccia spopolare quelle che sono le zone interne perché rischiamo veramente fra qualche anno di averle abbandonate completamente. Quindi una considerazione maggior di questo settore che è importante, sia come strategia di supporto alimentare, ma anche come salvaguardia del patrimonio agricolo che poi è paesaggio agrario, che senza di questo perdiamo anche la recettività turistica, quindi perdiamo due settori se non interveniamo nei prossimi anni.